Ed eccolo! L'inquittante hotel abbandonato! Diamo un'occhiata più da vicino! Che schifo! Odio le ragnatele! Guarda lì! È solo uno specchio! Facciamoci un selfie! Che posto eccitante! Per ora! Salve, sono Sofì! La manager del hotel abbandonato! Ecco le regole! Completate le missioni e aprite le casse! Una di quelle contiene il premio! 10.000! O morite di paura o diventate ricchissimi! Wow! Siamo pronti a vincere! Paperella, i soldi saranno nostri! Beh, preparatevi alla sfida! Dovete distruggere una pegnata con gli occhi bendati! Siamo pronte! Lilla va per prima! Siamo in diretta! Ehi ragazzi! Ditemi qual è il punto migliore dove colpire! Oddio! Svenga! Pignatta, dove sei? Vieni fuori! L'ho presa! Cosa? Beh, mi attenta a te, Pignatta! Non ci vorrà molto tempo prima che ti tiri giù! Boom! Aaaaaah! Ops! Ho preso qualcosa ma... Non penso sia la pignatta! Che cosa è successo? L'ologramma è rotto! Oh, guarda! Eccola lì! Oh, tranquilla ragazze, sono sempre io! Sono Sophie, la vostra manager dell'hotel inquietante! E qui la manager non cambia mai! Wow, guardate, sembra vera! L'ologramma è realistico! Fantastico! La tecnologia è proprio avanzata! Non è nemmeno trasparente! Sono vera! Wow, ciao ologramma! Ora basta! Torniamo alla sfida! Ascoltate ragazze, ecco la vostra nuova missione! Dovete trovare la vostra amica! Ma qual'amica? Siamo... Siamo tutte qui! Questa amica... Cosa? Dov'è Ivy? È scomparsa! Una foto della scomparsa di Ivy! Il vostro tempo inizia adesso! Dobbiamo cercarla! Sbrigati! Ehi ragazzi, c'è successa una cosa da paura! Non c'è tempo per le dirette, dai! Andiamo! Ivy! Sei qui? Ehi Barbara! Smettila di spaventarmi! Aiutami a cercarla! Non avete idea di dove sono? Laila! Scendi e aiutami! Fantasmi! Perché mi continui a spaventare? Andiamo! Ivy! Ecco dove sei! Tutta tranquilla è una festa! Vieni con noi! Ma mi sto divertendo! Ah va bene! Wow! Una nuova sfida! Che cosa sarà adesso? Ciao Sophie! Salve ragazzi! Siete pronte per la nuova sfida? Un grande scoppio! Dovete far scoppiare palloncini! Oh sì! Adoro uccidere palloncini! Sono pronta! Aspetta! Fai cadere la roccia! Questo è un posto civile! Abbiamo un cappello apposta per questo! Vai mio unicorno! Lascia qui la roccia! Au! Bella pesantina eh! Ragazzi! Distruggiamo questi palloncini! Ai! Perché non vi avete presa? Al lavoro ragazzi! Nessun palloncino deve sopravvivere! Ha funzionato! Ha funzionato! Tutto bene? Non proprio! Ecco la chiave! Possiamo finalmente aprire un cassetto! Non c'è niente! Ancora niente fortuna! Niente papere! Questo è un gioco per adulti! Il prossimo compito è raccogliere tutte le ciambelle! E resistere all'elastico! Pronti! Ciao ragazzi! A chi piacciono le ciambelle? Io me ne sto prendendo una! Non ci arrivo! L'elastico mi trattiene! E dai! Ci siamo quasi! Non ce la faccio! Oddio! L'albero mi è preso! Ma certo! Questo è elastico! Andiamo! C'ero quasi! Oh oh! Nessun elastico può trattenermi! Vai Ducky! Accidenti! Questa sì che vuol dire avere una motivazione! Ivy ha sconfitto l'elastico! Ottimo lavoro! Congratulazioni Ivy! La chiave è vostra! Dov'è il cassetto? Eccolo! Aprilo Barbara! Allora che cosa c'è? Ancora niente! Ragazze! Sorridete! I miei follower vi salutano! Eccovi qui! Pronte per la nuova missione? Entrate! Dovete formare una parola con le lettere che trovate nella stanza! E questi cubi sono dappertutto! Pronti via! Dai ragazze cercate! Qualcosa sta uscendo! Ragazzi ci manca un cubo! Potete dirci la lettera che manca? Ah ah ah! No no! Niente suggerimenti! Ma dov'è il cubo? Ragazzi vedete il cubo mancante! Eccolo! Laila aiutaci! Sì! L'ultima lettera! Ce l'abbiamo fatta! Uh oh! Non ce l'avremmo mai fatta senza di voi! Apri il cassetto! Che cosa c'è? Hmm... Wow! Una cuffia da doccia! Mi sta come un guanto! Hey! Ragazze vi aspetta una nuova sfida! Questa volta dovrete farvi un selfie! E questo è tutto! Wow! Ok! Facile! C'è un problema! Bevendo succo di limone! Cosa? Ok! Vi auguro un selfie molto aspero! Disgustoso! Per favore però non diterglielo! Prendete i vostri limoni ragazze! Fai prima tu Barbara! Che schifo! Non ce la faccio! Va a provare a me! Nom 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 nom! Nom nom! Di chi è quest'idea? Ecco Laila! Ragazze! Guardate una professionista! Hihihihi! Hihihihi! Oh! Wow! Ma come ha fatto? Ok! Diamo un'occhiata ai selfie! Laila è la regina di Instagram! Non ha nemmeno sussultato! Datemi il telefono! Ma che posso dire? Faccia buffe! Sembra uno sposmo nervoso! Poveretti! Sei così ammettita! Wow! Laila è fantastico! Insegnami a fare i selfie! È facile! Sorridi! No! Come un angelo! Non come un mostro! Alza il collo! Ecco qua! Sofì, dov'è la nostra chiave trofeo? Oh, giusto! Torniamo alla lezione di selfie! Barbara, aprilo! Sbrigati! Che cosa c'è dentro? È un libro! Wow! È il miglior regalo di sempre! Cosa c'è nel mio cassetto? Ah! No! Una scheggia! Ma troppo rigido! Speriamo che ci siano dei soldi! Oh, è schioma morbida! Ancora meglio! Adoro le feste con la schioma! Chi c'è nella mia scatola? Oh sì! Un milione di dollari! Me li merito! Per la prossima sfida, nasconderò una chiave in una delle mele! Shhh! Dovete tirare fuori dall'acqua la mela giusta! No, no, no! Niente mani! Con i denti! Ok, capito! Evi, vai per prima! Dai, sei tutte noi! Ok, care mele, siete proprio nei guai! Sì, una mela! Togliti! Barbara, tu sei la prossima! Ok, sono pronta! Altre! Vado! Dai, Barbara! Sto fuocando! Aiuto! Stai bene? No, non so nuotare! Vai tu, Laila! A me? Ok! Ma userò la testa! Tenimi il telefono! Mentre nessuno mi guarda, la prendo con la mano! Ehi, guardate! Ho la mela! Wow, guarda! Ho la mela giusta! Abbiamo la chiave! Sophie! Fantasmi! No, siamo noi! Abbiamo la chiave! Fantastico! Potete aprire il cassetto! E non spaventatemi più così! Ma dov'è? È questo! Apri! Che cosa c'è dentro? Ancora niente! Sempre spazzatura! Pronte per il prossimo compito? Il quiz bagnato! Le regole sono semplici! Chi dà la risposta sbagliata, si becca un palloncino d'acqua in testa! Sono pronta! In questo caso, ecco la tua domanda! Qual è la capitale degli Stati Uniti? New York, Texas o Washington DC? Fammi pensare! Conosco la risposta! Sbagliato! Oh no! Adoro il quiz bagnato! La prossima! Sei pronta, Ivy? Sì! Senti che pezzo! Quale di questi è un frutto? Un pomodoro? Una banana? O un bruco? Ivy! La domanda! Ivy! Bene! Tempo scaduto! Mi dispiace! Qual era la domanda? Sì! Pioggia! E vai! Mi fa piacere! Laila, ora tocca a te! Quanti sono i colori dell'arcobaleno? E quanti sono? Un secondo! Ragazzi, potete aiutarmi? Sapete dirmi quanti sono i colori dell'arcobaleno? Scrivete nei commenti! Chissà con chi sta parlando! Niente risposta? Tre! Risposta sbagliata! Palloncino! Mi dispiace, avete sbagliato tutte! È un vero peccato! E quindi? Io mi sono divertita! Pronte per la prossima missione? Dovete togliervi i calzini tenendo una ciotola piena di slime schifoso! Wow! Siamo pronte! Giù ragazze! È difficile! Sapevo che dovevo lavorare di più sugli addominali! Barbera! La tua faccia è matta! Ci sono quasi... Un piede fatto! Ecco l'altro! Laila! Non ce la fai più! Come se fosse peggio di un test di fisica e non una sfida di calzini! La ciotola! Calmati, Ivy! Ivy, smettila! Farei un casino! Oh no! Melma schifosa! Ragazzi, sembra che abbiate perso! Lo slime però vi sta bene! Ivy, è tutta colpa tua! Ce l'avevamo quasi fatta! Non te la caverai così! Guerra di slime! È colpa tua! No, tua! Abbiamo perso tutti i soldi per colpa tua! Lasciami in pace! Siete pronti per la sfida finale? E ce le faranno le nostre ragazze? Basta litigare! Ecco la vostra missione! Ci sono dei soldi in cima all'armadio! Potete prenderli? Wow, ma certo! Dai, Barbara! C'è solo un problema! Deve farlo Ivy! Ok! Levati! Ci sono! No, non ci arrivo! So io cosa fare! Laila, aiutami! Solleviamo Ivy! Tutti per uno! Ok! Tutti insieme! Sì! Abbiamo i nostri soldi! L'amicizia ci ha aiutato! E siamo ricche! Arrivederci! Venitemi a trovare all'hotel inquietante! Ti sono! Ti sono! Ti sono! P Y